Ben ritrovati gentili telespettatori, benvenuti al nostro Mille Secondi in Onda, appuntamento con l'attualità. Oggi parliamo davvero di attualità perché siamo sulla cronaca, come diciamo noi giornalisti. Però prima voglio presentarvi l'ospite, per me particolarmente gradito, è il dottor Salvatore De Paulis, dirigente della Polizia di Frontiera di Brindisi. E ha anche altri incarichi specifici di cui parleremo in questa trasmissione. Ben ritrovato Salvatore. Grazie, grazie. Diciamo noi sti telespettatori, per me è un piacere particolare perché è quasi un festeggiare le nozze d'argento con l'informazione specifica relativa al dottor De Paulis perché ci conosciamo circa da 25 anni. Ho seguito passo passo la sua carriera, quella che si è sviluppata almeno sul nostro territorio. E ora mi fa piacere anche avere il conforto da diversi anni oramai a questa parte, ma nello specifico, soprattutto nell'ultimo ruolo ricoperto da alcuni anni di dirigente della Polizia di Frontiera, queste operazioni, l'ultima nello specifico, dottor De Paulis, che tu hai voluto chiamare caccio al tesoro e che ci ha dato l'opportunità a noi giornalisti e a voi soprattutto, operatori delle forze dell'ordine, di far venire fuori un malcostume. Malcostume è una parola veramente limitata, è un eufemismo, è qualcosa di ben più colossale. Tant'è che proprio questa mattina, prima di cominciare questa registrazione, navigavo su internet e ho visto che l'operazione ultima che avete fatto all'aeroporto con la Procura della Repubblica di Brindisi, con il supporto della Procura, ha avuto un'enfasi extranazionale. Questo secondo te perché? Perché se ne è abbastanza di questo tipo di situazioni, si è alla ricerca di situazioni eclatanti o c'è qualcos'altro? Grazie, grazie. Ci conosciamo da tanti anni. Chiaramente l'operazione che abbiamo portato avanti in questi giorni, che abbiamo chiamato caccio al tesoro, è un'operazione che è sofferta ma nello stesso tempo è anche importante. Sofferta perché ha riguardato degli operatori della sicurezza aeroportuale che operano insieme alla Polizia di Frontiera. E quindi gente che comunque aveva rapporti quotidiani con noi e che in un certo qual modo aveva tradito quella fiducia che doveva essere da parte loro indiscutibile e che aveva in un certo qual modo messo in discussione il sistema della sicurezza aeroportuale. E' anche un motivo di orgoglio della Polizia di Frontiera aver portato a compimento questa operazione perché comunque è stato in un certo qual modo eliminato un malcostume molto brutto perché va ad incidere non solamente rispetto all'immagine generale dell'aeroporto ma va anche a toccare il singolo cittadino che prende l'aereo, che si trova con la valigia rotta, con la valigia aperta, comunque con un'interferenza illecita da parte di una terza persona che per motivi prettamente egoistici e personali rovista tra gli effetti personali per magari impossessarsi anche di stupidaggi, non solamente di cose importanti. E quindi questo è un aspetto che doveva necessariamente essere messo porre fine. Dal punto di vista squisitamente tecnico mi sembra di poter dire che senza nulla togliere i tuoi predecessori, però al di là anche delle qualità investigative c'è di buono e di nuovo negli ultimi anni che la tecnologia vi aiuta in maniera non indifferente. Non parliamo solo dell'ultima operazione ma parliamo degli scanner, delle varie situazioni tecnologiche che vengono utilizzate per portare a ben compimento le inchieste. Tu sei stato anche da questo punto di vista un precursore perché ti sei dotato per tempo di questa tecnologia, la stai mettendo a frutto o sbaglio? Sì, certamente negli ultimi anni la polizia di frontiera è completamente cambiata, non è più il semplice operatore che sta lì, controlla il passaporto, ci mette il timbro e ti fa entrare e uscire dal territorio nazionale. Ma attualmente l'insieme della struttura che è deputata a controllare le frontiere si è altamente tecnologizzata. Noi abbiamo sistemi molto complessi sia per bloccare i flussi di migrazione clandestina, ma anche per garantire la sicurezza dei voli e della navigazione. Perché quando parliamo di polizia di frontiera dobbiamo anche tenere presente che oltre all'aeroporto, che è certamente un sistema molto complesso sia dal punto di vista della sicurezza in generale, sia come sistema in sé di mobilità, anche i porti di pari passo si stanno adeguando a un sistema di sicurezza per garantire che all'interno del porto, sulle navi e la navigazione in sé sia il più possibile sicura. È chiaro che ci sono delle strumentazioni che riguardano l'individuazione delle persone dal punto di vista dell'immigrazione clandestina, poi c'è tutta una serie di strumentazioni che invece servono per garantire la sicurezza degli aeroporti e dei porti. Però voglio dire, spiegare in breve l'intero sistema che è organizzato per quanto riguarda la sicurezza non è così semplice. In poche parole, per mantenersi nell'ambito della sicurezza, in aeroporto, subito dopo l'attentato alle torri gemelle, che ha sconvolto completamente il sistema della sicurezza degli aeroporti, sono state create delle misure, delle normative, intanto internazionali e poi nazionali, e quindi a seguito di ciò sono state affrontate delle strumentazioni e delle tecniche di controllo per assicurare un viaggio tranquillo ai passeggeri. Al di là della qualità specifica del dirigente, io credo e penso di non toglierti niente nel dire questo, che determinati risultati lì si ottengono anche in un percorso di equipe, di squadra, a parte la collaborazione fattiva con la magistratura, con la procura della Repubblica, proprio all'interno della Polizia di Frontiera, sembra che effettivamente ci sia un obiettivo comune, sembra che i risultati vengono perseguiti e vengono ottenuti proprio grazie ad una collaborazione a tutti i livelli. Tu sei il riferimento massimo, ma immagino anche i tuoi... Noi siamo riusciti a creare un ottimo spirito di squadra, diciamo, soprattutto con riferimento al gruppo che costituisce la sezione di Polizia Giudiziaria, che si dedica in modo molto attento, molto appassionato, alle varie fenomenologie che interessano la nostra specialità. E quindi negli ultimi tempi siamo anche riusciti ad ottenere dei risultati, sia da soli come Ufficio Polizia di Frontiera, ma anche e molto spesso in collaborazione con altri uffici della Questura, in particolar modo della squadra mobile, siamo riusciti a portare a termine grosse operazioni che hanno avuto un respiro non solamente nazionale, ma anche internazionale. Perché purtroppo le problematiche che l'Ufficio Polizia di Frontiera prende in considerazione, hanno sempre a che fare con aspetti internazionali. Anche il semplice arresto di un cittadino straniero automaticamente ha un riverbero sul paese di provenienza, sia che sia un clandestino che non lo sia, quindi interessare le ambasciate, interessare i consolati, quindi voglio dire c'è sempre questo rapporto di natura internazionale. Per cui è vero che noi come Polizia di Frontiera abbiamo una visibilità, soprattutto quando capitano queste circostanze di arresti, in questo caso tutti i blindisini, quindi molto sentiti sul territorio locale, ma è pur vero che molto spesso noi facciamo molta attività che non ha una visibilità immediata e diretta sulla carta stampata o comunque nei mezzi di informazione, ma che è molto importante e che va ad incidere a livello internazionale, sia che sia di prevenzione, sia che si tratti di un'attività di repressione, perché è in sé proprio la natura dell'attività della Polizia di Frontiera che porta automaticamente ad avere a che fare continuamente con realtà internazionali. A proposito, proprio per rimanere in argomento con quello che stai dicendo in questo momento, questo è verissimo, però è anche vero che il carattere poi del dirigente alla fine ha il suo peso, perché io dicevo in apertura di questa trasmissione ti conosco da un bel po' di anni e conosco anche la tua sobrietà, non hai mai interessato i media o gli organi di informazione per notizie spurie cosiddette, solo quando ce n'è stata la necessità e quando la portata dell'informazione, della notizia stessa meritava, e questo non solo da dirigente della Polizia di Frontiera, anche da responsabile tanti anni fa della questura di Brindisi, di funzionale della questura di Brindisi, da dirigente del commissariato di Ostuni, è importante anche perché poi dopo l'opinione pubblica deve formarsi su questo tipo di informazione, o sbaglio? Sì, voglio dire, è chiaro che è bene che l'informazione sia sempre a corrente di quello che accade, noi cerchiamo di dare sempre le notizie, chiaramente dando una maggiore rilevanza per quelle che si ritiene di maggiore interesse anche dal punto di vista di una possibile utilità per il cittadino che apprende quella notizia, però è chiaro che in altre situazioni, voglio dire, molte attività della Polizia di Frontiera rimangono nell'ambito di un'attività prettamente burocratica, quindi voglio dire, che però hanno una loro importanza, ma hanno poco impatto dal punto di vista mediatico, quindi al cittadino volte e volte spiegare determinate attività della Polizia di Frontiera diventerebbe quasi incomprensibile, nel senso che è alquanto tecnico gli argomenti che vengono affrontati, che so io, trattare tutta la problematica di un rifugiato politico che si deve trasferire da una nazione all'altra, quindi avviare tutte le necessarie procedure, coinvolgere i vari enti sia nazionali, sia europei, sia statali, sia non statali, voglio dire, c'è tutta una serie di attività che vengono fatte quotidianamente, che hanno una loro rilevanza, che però voglio dire, al cittadino forse dire che c'è stata questa pratica relativa a un rifugiato politico o anche, che so io, il trasferimento di persone da uno Stato a un altro, dall'Italia a un'altra nazione o dalla nazione straniera all'Italia, quindi tutte le procedure, diventa già difficile renderle comprensibili in poche parole a un pubblico che non è addentro alla materia. Senti, queste procedure burocratiche a cui facevi riferimento, hai detto prima, sono radicalmente cambiate all'indomani dell'11 settembre con l'attentato alle Torri Gemelle, ma anche la stessa tua figura è cambiata perché proprio all'indomani, comunque successivamente a quello che è accaduto, tu stesso sei stato chiamato anche a far parte di un numero ristretto di funzionari che si occupano anche specificamente proprio di queste problematiche legate anche al terrorismo internazionale che prima, diciamo, forse non si conosceva bene. Parlami di questa tua esperienza, quello che si può dire ovviamente, perché immagino che la gran parte del lavoro non possa essere comunicato per ovvi motivi di sicurezza. Ma come dicevo prima, è chiaro che dopo l'attentato alle Torri Gemelle è cambiato completamente lo scenario della sicurezza aeroportuale. Intanto è entrata in vigore una normativa internazionale che prevede una serie di procedure, prima il cittadino non veniva sottoposto a quei controlli così attenti e a volte anche scoccianti in un certo modo, ma che sono obbligatori. Quindi questa normativa europea è stata recepita a livello nazionale e quindi si è creato un sistema anche per verificare i controlli periodici, sia a livello locale, sia a livello nazionale e a livello internazionale. In buona sostanza questa normativa che cosa prevede? Questa normativa prevede che a livello locale il dirigente dell'ufficio polizia di frontiera d'intesa con il direttore dell'aeroporto deve creare il sistema di sicurezza aeroportuale sulla base della normativa vigente, quindi creare i controlli ai varchi di accesso dei passeggeri per controllare il passeggero stesso e il suo bagaglio a mano, controllare i bagagli da stiva attraverso determinate procedure, controllare l'intero sistema aeroportuale, controllare l'aereo con determinate procedure. Tutti coloro che fanno parte di questo sistema devono essere abilitati attraverso un corso di formazione e attraverso anche un esame che bisogna sostenere a più livelli e poi c'è un secondo livello che è quello del controllo periodico, se il sistema funziona o non funziona. A livello locale c'è una piccola commissione dove fa parte un dipendente dell'ufficio polizia di frontiera, uno dell'Enac e uno dell'aeroporto di Puglia che periodicamente vanno a verificare il sistema che è stato predisposto a Brindisi. A livello nazionale poi invece a seguito di un concorso sono stati scelti una ventina di funzionari tra funzionali del Ministero degli Interni e funzionari dell'Enac che sono entrati a far parte della commissione nazionale ispettiva degli aeroporti d'Italia, per cui io faccio parte di questa commissione e quindi una volta, due volte a mese vado in giro per l'Italia per verificare i sistemi di sicurezza e le modalità che vengono adottate in questi aeroporti e quindi verificare se c'è lo standard voluto dalla normativa europea. Poi successivamente e non periodicamente, ma quando si creano delle criticità abbastanza evidenti, subentra la commissione europea che va a fare una verifica negli aeroporti che hanno evidenziato queste criticità. Noi 7-8 anni fa abbiamo avuto una ispezione della commissione europea, quando ancora stavamo nel vecchio aeroporto, Bari l'ha avuta un paio di anni, tempo addietro, non mi ricordo esattamente adesso quando l'ha avuta, quindi in relazione a determinati aspetti e comunque poi si fanno anche delle scelte a volte così del tutto occasionali, questa commissione scende e verifica sia il lavoro che ha fatto la commissione centrale italiana per la verifica degli aeroporti, sia quello che effettivamente c'è negli aeroporti. Quindi è un sistema abbastanza complesso che continuamente viene monitorato a più livelli, ma in modo particolare il nucleo centrale ispettivo degli aeroporti è l'asse portante su cui gira tutto il sistema, perché è questo nucleo che va a verificare, a sollevare obiezioni, a contestare le procedure e poi l'ENAC che è l'ente nazionale preposto al sistema di sicurezza degli aeroporti, deve procedere a invitare gli enti interessati ad adottare le misure di, la soluzione insomma, adottare le misure appropriate per trovare la soluzione alle criticità che sono state evidenziate. E questo è un po', non so se sono stato chiaro nel comprendere il sistema. Non solo sei stato chiaro, fra l'altro mentre parlavi pensavo di quanto sia anche importante oltre alla preparazione professionale e a tutto il resto, la preparazione anche tecnica, anche la componente psicologica, proprio per la materia che tu tratti, che voi trattate. Per quanto riguarda proprio l'apporto della componente psicologica, ricordo anche che non ti sei fatto mancare niente nella tua carriera, un po' di anni fa le tue capacità di mediazione per risolvere una questione critica all'aeroporto di Brindisi con il passeggero turco che minacciava il dirottamento di un aereo e quando veramente anche in quel caso, così come è accaduto anche di recente, tutti i media nazionali ed internazionali puntarono gli obiettivi sull'aeroporto di Brindisi e in quell'occasione hai dimostrato anche di essere un ottimo psicologo, no? Ma voglio dire, non so se sono un ottimo psicologo. Beh, era una situazione critica, non indifferente. Fu chiamato, poi ero pure in ferie, quindi fu chiamato prugentemente ad andare in aeroporto perché c'era questo dirottamento di aereo di un presunto terrorista turco che voleva incontrare a tutti i costi il Papa e quindi aveva messo questa bomba. Durò tutta una nottata fino a quando riuscimmo a convincerlo, a farlo scendere e a consegnarsi alla polizia in buona sostanza. Ma a proposito dell'aspetto psicologico, gli operatori aeroportuali, prendiamo anche le guardie giurate visto che stiamo parlando dell'argomento, che sono l'ultimo anello del sistema di sicurezza aeroportuale e comunque in generale tutti gli addetti alla sicurezza, ma quelli che maggiormente hanno più visibilità nei confronti del passeggero e la guardia giurata che è quella che li mette le mani addosso, riapre il bagaglio, eccetera. Anche loro, oltre a conoscere la materia per cui sono assunti, quindi come si fa la procedura di controllo sulla persona, come deve essere aperto un bagaglio, quali procedure devono essere adottate per dire se all'interno di un bagaglio c'è o meno presenza di esplosivo di oggetti pericolosi, quali armi, coltelli, eccetera, al di là di queste conoscenze deve avere anche una predisposizione di natura psicologica, nel senso che loro fanno prima di essere sottoposti all'esame di abilitazione come addetti alla sicurezza, ci deve essere un risponso circa la loro idoneità dal punto di vista psicologico, nel senso che bisogna valutare se sono in grado di reggere situazioni in cui c'è una particolare situazione stressante, quali nel caso di una presenza di un ordigno esplosivo, una persona può anche andarsene in pallone e quindi non saper fare le ulteriori procedure che sono richieste, per cui se una è particolarmente emotiva ed è successo, non viene proprio portata ad ulteriore compimento di formazione, si blocca lì e quindi viene dichiarata non idonea al servizio di sicurezza aeroportuale. Spiegami giornalisticamente una questione tecnica, se ci sono vari livelli, vari gradi di allerta, di recente qualche mese fa c'è stata l'ennesima telefonata anonima, doppiata da un'altra telefonata anonima che forse ha fatto elevare il livello di allerta per quanto riguarda una minaccia di una bomba nell'aeroporto di Brindisi, come giudicate psicologicamente e tecnicamente i vari livelli di allerta e come intervenite nell'evacuare l'aeroporto, che cosa accade? Perché è una curiosità proprio professionale. Ma purtroppo quando accadono di questi fatti il dirigente dell'ufficio Polizia di Frontiera si assume una diretta responsabilità circa le determinazioni da prendersi. È chiaro che anche qui sono state codificate delle procedure per cercare di comprendere e di capire se ci troviamo di fronte ad una telefonata che è nient'altro che uno scherzo oppure la telefonata ha un fondamento di verità. E questo si fa attraverso un tentativo di cercare intanto di indurre la persona che fa questa telefonata a parlare il più possibile, per cercare di comprendere sia il tono che viene utilizzato, sia il contenuto della conversazione e quindi da questi due elementi cercare di capire se ci troviamo di fronte ad una persona che sta dicendo la verità sul pericolo che annuncia. Poi è molto importante anche se arriva una sola telefonata, se uno dice c'è una bomba in aeroporto e finisce lì, di queste telefonate ne arrivano moltissime, è chiaro che noi adottiamo un livello di controllo basso dove non viene interessato il passeggero, l'attività aeroportuale continua regolarmente, ma che comunque viene effettuato un'attività di bonifica della zona. Nel caso di specie che è successo giorni addietro, a cui tu ti riferivi, lì abbiamo avuto invece un'insistenza nelle telefonate, per cui io in un primo momento avevo detto vabbè facciamo il livello normale di controllo, senza bloccare il traffico, senza evacuare l'aeroporto, nel momento in cui invece la telefonata è stata insistentemente ripetuta e anche con tono a dire di chi la prendeva, che era un operatore aeroportuale, molto concitato, molto preoccupato, allora a quel punto è chiaro che il rischio di potersi trovare di fronte a una situazione particolarmente delicata mi ha indotto a dire procediamo con il controllo massimo, cioè si procede all'evacuazione dell'aerostazione, ho fatto intervenire gli artificieri che fanno parte dell'ufficio sempre di polizia di frontiera e quindi abbiamo proceduto a una bonifica completa dell'aerostazione. Casualmente si è trovata una valigia, ma penso che quella sarà stata lasciata da un passeggero nel momento in cui è stato detto che dovevano abbandonare l'aerostazione, valigie che però dai controlli, anche in questo caso con un sistema di radiogeno, perché noi abbiamo un sistema di portatile per radiogenare i bagagli senza necessariamente doverli fare esplodere, perché abbiamo verificato che dentro non c'era assolutamente niente, quindi questo poi è stato restituito al legittimo proprietario. E quindi in questo caso in relazione alle modalità della telefonata, a come viene fatta questa telefonata, uno si determina, quindi il livello di intervento più incisivo e meno incisivo viene proprio stabilito, anche attraverso una serie di considerazioni che sono il frutto di un'esperienza che uno poi acquisisce nel tempo, perché se noi dovessimo applicare il controllo completo per ogni telefonata che arriva e noi avremmo l'aeroporto bloccato giornalmente. A proposito dell'assunzione di responsabilità, io immagino, non lo so me lo puoi confermare, oppure mi puoi spiegare come è possibile avere anche qualche istante per rilassarsi quando si hanno questo tipo di responsabilità, come stavi dicendo qualche istante fa, io immagino anche adesso che stai con me e stai realizzando questa intervista, non stacchi mai mentalmente con il tuo lavoro, sebbene la tua squadra è collaudata, hai uomini ormai affermati e affidabili, però come responsabili proprio di tutte queste cose. Beh, voglio dire, poi non è che dobbiamo proprio, indubbiamente purtroppo uno che è il dirigente in ufficio, tieni presente che l'ufficio Polizia di Frontiera è il secondo ufficio più grande della provincia dopo la questura, noi siamo circa 130-135 uomini, l'ufficio è composto oltre che dai uomini che fanno i controlli di frontiera, il controllo ordinario del porto dell'aeroporto, ma nel mio ufficio è incardinato anche il nucleo tiratori scelti, il nucleo artificieri, il nucleo cinofili, che oltre a servire l'intera provincia di Brindisi, vengono chiamati anche per Lecce, Taranto, quindi vanno fuori zona. Quindi già di per sé l'ufficio è abbastanza complesso come organizzazione. Poi è chiaro che il fatto di essere il dirigente automaticamente c'è una responsabilità oggettiva, nel senso che qualunque cosa succede, anche in questo momento che noi stiamo parlando e in aeroporto può succedere una grana qualunque, il dirigente poi ne risponde comunque per il semplice fatto che magari o gli contestano che non c'era una perfetta organizzazione o perché magari non è stata data giusta motivazione al personale, comunque il dirigente ne risponde sempre, ma questo non significa... Però obiettivamente a te non è mai accaduto. A me personalmente mi è sempre piaciuto lavorare, quindi è anche assumermi in prima persona le responsabilità, qualunque se siano. Non ho mai delegato a qualcuno, anzi se una cosa è particolarmente difficile, io me ne faccio carico senza neanche pensarci due volte, indipendentemente da quale può essere l'esito e quali possono essere le conseguenze. Sarà una mia caratteristica, di fronte a una situazione che richiede delle decisioni e delle valutazioni, io non scarico mai agli altri, io in prima persona prendo la decisione e me ne faccio carico dei risultati, sia che sono il frutto delle mie decisioni, che sia anche delle attività di quelli che mi stanno intorno. Senti, parliamo ora di un altro aspetto che ho potuto appurare sul campo, come si suol dire, che forse è stato anche l'aspetto che mi ha permesso di interagire anche amichevolmente con te, la tua disponibilità anche a parlare della tua professione, del tuo, del vostro lavoro, anche con gli studenti a scuola, che secondo me è un passaggio davvero importante, di grande impatto, si parla tantissimo in questi ultimi anni di legalità a scuola, noi l'abbiamo fatto in tempi non sospetti, grazie alla tua collaborazione. Ecco, questa disponibilità non penso che c'entri niente la professione, è una cosa caratteriale, umana o no? No, intanto c'è un orientamento che nel tempo è diventato sempre più insistente da parte del Ministero di fare in modo che la polizia si avvicini alle persone. Mi sembra che in passato c'era stato la polizia tra la gente, lo slogan era inequivocabilmente chiaro. Io personalmente sono uno che mi piace stare in mezzo alla gente, perché stando in mezzo alla gente si riesce anche a sapere tante cose utili per la professione, ma in generale voglio dire come arricchimento personale. E nello stesso tempo è bello anche poter coinvolgere nei limiti in cui è possibile, chiaramente, la propria struttura negli altri ambienti, soprattutto scolastici, dove io mi rendo conto che tante volte sia mia figlia, sia altri ragazzi, figli di amici, comuni, eccetera, ti pongono delle domande, sono incuriositi, anche perché voglio dire che in televisione purtroppo la stragrande maggioranza dei film sono tutti polizieschi, quindi c'è questa idea un po' mitica, un po' particolare dell'attività del poliziotto, no? Quindi ogni cosa che ti porta all'attività di polizia dà un senso di particolare, insomma, e quindi è bene che dove è possibile la polizia si apra soprattutto ai ragazzi per far vedere che cosa fa la polizia, come lavora, anche i sacrifici che vengono fatti dalla polizia, perché voglio dire poi è vero che abbiamo la strumentazione, abbiamo le attrezzature, però voglio dire c'è anche molto sacrificio da parte del personale a cercare di venire incontro a tante esigenze che in una giornata bisogna fare fronte, che non sono solamente esigenze ben codificate, dove succede un fatto e sai quello che devi fare, molto spesso succedono delle cose che devi risolvere con fantasia, con una soluzione che non è scritta da nessuna parte, quindi anche questo è una caratteristica che a me personalmente piace, perché la polizia è una cosa continuamente diversa, ogni giorno è qualcosa di diverso, al di là di dover fare i servizi, di dover organizzare le pattuglie, però voglio dire in buona parte della giornata bisogna affrontare continuamente situazioni imprevedibili. Senti un'ultima cosa, non sei un attore, non sei un cantante, quindi non posso chiederti quali sono i tuoi prossimi obiettivi, però ecco ti posso anche chiedere alla Marzullo maniera quali sono i tuoi sogni nel cassetto, le tue aspirazioni immediate, a livello proprio umano immagino, oltre che da dirigente di questo settore così delicato, come vedi il futuro imminente tuo personale, del tuo ufficio e in generale della situazione che stiamo vivendo? Ma dal punto di vista professionale voglio dire, io personalmente dove mi trovo sto bene, nel senso che sono riuscito a conciliare un'attività che mi piace, in modo particolare l'attività che riguarda l'aeroporto, che ho cominciato così quasi per necessità, poi pian piano mi ha appreso, mi ha appassionato, quindi ho cercato anche di fare sempre di più. E quindi questa attività tutto sommato a me sta bene, concilia le esigenze familiari con le esigenze professionali, è un'attività abbastanza multiforme, non è che io ultimamente sto molto poco in ufficio, nel senso che tra riunioni a Roma, nucleo centrale ispettivo, commissioni di esami per gli addetti a sicurezza, poi sono anche istruttore certificato per la formazione degli addetti a sicurezza, quindi in effetti poi mi rimane poco tempo per l'ufficio per cui sono stato nominato dirigente. Certo, voglio dire, sicuramente migliorare significa come prospettiva magari andare a finire in un ufficio ancora più complesso, potrebbe essere una cosa interessante. Che so io, credo che fra non molto dovrebbero anche coptarmi per tutto il sistema aeroportuale, adesso viene di pari passo adottato anche per i porti, e quindi anche per i porti il Ministro mi ha detto, vedi che anche tu dovrai andare a fare parte di queste commissioni, perché pure per i porti, e quindi voglio dire, sarà un ulteriore arricchimento professionale, perché anche per i porti dovranno essere fatti controlli, verifiche, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, è già di per sé in evoluzione la professione, quindi già così mi sta bene, non ho grandi idee, diciamo... Sei soddisfatto della tua. Io ti ringrazio, ti ringrazio per aver accettato il mio invito, ti auguro ogni bene possibile, lo auguro a te, a tutti gli uomini della Polizia di Frontiera di Brindisi che veramente ci hanno dato lavoro, no? In questi ultimi anni, lavoro di qualità. Ti ritorno a dire perché il dottor De Paulis è sobrio, è un dirigente sobrio e interpella l'informazione, cioè giusto quando è davvero necessario e questo ci permette anche di distinguere la portata di determinate informazioni. È stato davvero piacevole parlare con te, spero di averti, magari non prestissimo per ovvi motivi professionali, ma presto ancora nei nostri studi e grazie di cuore ancora al dottor De Paulis, al Salvatore De Paulis, perché come vi dicevo ci conosciamo da 25 anni e sicuramente ancora avremo di che lavorare insieme, no? Certo, sicuramente abbiamo altre belle cose che dovremmo portare a termine e su cui ci stiamo lavorando. Io nel frattempo ringrazio te e tutta la redazione e colgo l'occasione anche di ringraziare pubblicamente i miei collaboratori, il mio personale che è come se fosse qui presente con me perché sono loro insieme a me chiaramente che danno la possibilità di porre l'ufficio polizia di frontiera in una posizione di massima visibilità e di considerazione. Grazie a te e grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci da casa. Grazie a tutti!